Simone Santoro sei un miracolato ah eccolo la cosa bella è che non sarebbe sapere niente a male ma lui non ha detto nulla che devo dire? mi devo difendere da questa accusa di miracolato o possiamo andare avanti? guarda secondo me Simone dovresti fare proprio un monologo per spiegare come mai non sei miracolato a social boom ma no la gente è solo a lui tutto ciò che ho fatto dal 2016 fino a mo' parla da sé non l'ho mai fatto con l'aiuto di nulla ho fatto tutto da solo con le mie idee e basta poi ci sta una guerra tra vite